Così Matteo Boniccioli, alla vigilia della gara con Treviglio è indubbiamente un appuntamento importante. Sì, come lo sono stati tutti durante la stagione, nel senso in un campionato così equilibrato, dove due vittorie consecutive, due sconfitte consecutive ti facevano andare alle stelle piuttosto che mandarti all'inferno. Noi in casa abbiamo sempre giocato una buona pallacanestro, abbiamo perso soltanto una volta, più la partita persa in campo neutro, quindi abbiamo il record casalingo migliore della Lega assieme a Treviso, cerchiamo di rispettarlo per entrare in quest'ultimo mese di quattro partite nel miglior modo possibile. Come si prepara una partita di questa importanza contro una squadra forse tra le più enigmatiche, mi passi l'aggettivo del campionato? Sì, lo dicevo prima, loro sono stati bravi a dar vita a una metamorfosi tecnica veramente sorprendente, nel senso che sono passati a una pallacanestro molto organizzata, a una pallacanestro di letture, che gli ha dato grandi successi, nel senso che questo va a merito del loro allenatore, questo giovane allenatore Vertemati, molto bravo. Che è un importante passato nell'attività giovanile, che sta continuando dalla Narsua squadra secondo quei criteri. Hanno vinto 11 delle ultime 15 partite, hanno vinto in campi importanti come Roseto, andando a sfidarli sul terreno di Roseto, cioè segnando 94 punti in trasferta, hanno battuto Imole supplementari, quindi è una squadra che sta benissimo, che al contrario della fortitudo porta sul petto un nome importante, ma meno carico di responsabilità di quello che abbiamo noi. Come dicevo ai tuoi colleghi prima, io ho passato la settimana a rassicurare un po' la squadra, perché allena un gruppo forse di troppo bravi ragazzi, che hanno risentito in maniera pesantissima della consapevolezza di non aver fatto quello che potevamo fare, cioè di aver vinto a Ravenna. E quindi con altre squadre avrei passato la settimana, diciamo come diceva il mio amico Ettore Messina, con l'elmetto e la baionetta. Questa settimana è stata più una settimana di carezze che di schiaffi, perché questo è un gruppo di lavoratori incredibile, con grandi ambizioni, ha degli obiettivi che ci eravamo dati rispetto a quella partita, non rispetto alla stagione, e quindi non aveva senso aggravare il loro stato d'animo con parole pesanti.